L'Uia di Mondrone Siamo al Pian della Musa, andiamo a fare la Punta D'Ami 3166 metri La Ciamarella Oggi con Guido, Mario e Maurizio E lì la Ciamarella Siamo giunti al cosiddetto Pian dei Morti Quadretto sulla Ciamarella La Pessanese Com'è venuta il citrino? Bene Eccoci al Rifugio Castaldi con alle spalle la Pessanese La Punta D'Arnaz e la Punta Maria Dopo una perdita di quota Siamo sul filo di cresta di questa morena E là dietro ci sarà poi il vallone con la nostra meta La Giù è il Gaspaldi Ecco la Giù la nostra meta Pesaggio veramente stupendo La Cresta di Salita La Vetta Lì davanti La Punta D'Ami E a sinistra Il Giacciano della Bessanese con i denti di Collerie Siamo su un piccolo nevaio Pendio finale verso la Vetta I due piccoli nevai che abbiamo attraversato Guido E Maurizio Sono già arrivati in vetta Un pari di minuti E anche io arrivo Quest'ultimo periodo finale Un po' dovretto Giacciano della Ciamarella E la Ciamarella coperta dalle nuvole L'uio di Mondrone Giù al fondo Pian della Musa E in fondo alle Quella laggiù è la Punta Maria Aspettiamo solo che lei vada su la Punta Perché in quattro non abbiamo ancora avuto il coraggio di andare C'è? C'è la quattro Ci sono qua a 150 metri Ma è perché abbiamo sbagliato Se vuoi fare la normale ti va Da ghiacciare Se vuoi E allora io ho portato L'Irampone Allora lenta Spettacolare Spettacolare l'isla Qua sulla Messanese Impressionante Quasi come il viso Spigola L'uia di Mondrone Stambecki Stambecki E' circa 25-30 metri Non di più Altri tre stambecki Questi sono gli stambecki a quattro zambe E questi a due Stiamo scendendo Abbiamo fatto un'altra via decisamente più rapida Stiamo già quasi a rifugio E poi E poi Il ripido Pennino di discesa Guarda abbiamo anche degli atleti Sul percorso oggi Negli ski runner Gentilmente ci può fare Un autografo Anche oggi la gita è finita Pegnatia Faticosa Ma pagante Oggi per festeggiare il compleanno Di Maurizio Pasta e fagioli E vai E dopo E champagne E vai con la pasta e fagioli Guardate un po' qui Fai partire il tappo? No Perché mi sei avvenuto Tra l' mente Faccio provare come vuole Aspetta solo per E oggi Di Maurizio Riesce andando Allora 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 Ma non fa Ma quella è finchetta L'hai scaricato Allora Allora Si Ma Va 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 Bisogna che fosse autoscarlo Qui è un Non è stato Giurato Mi sembra che sia Un po' Allora 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 Bello Bello Metto Finito Allora 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 Grazie a tutti.